Però c'è un elemento in più che io volevo sottoporre a Rosario Trefiletti, che già vedo perplesso con delle facce scettiche sul ritorno, però volevo chiederti una cosa in più, un elemento che ci colpeva particolarmente è l'aumento degli italiani over 50 che decidono di emigrare. Quindi i dati finora prevedevano in particolar modo giovani, giovanissimi, che decidono di andare a cercare fortuna fuori, ma in un'età così più avanzata. Perché? Cosa succede, Rosario? Beh, succede una cosa che non dovrebbe appunto succedere, perché mentre i giovani, ahimè, stanno aumentando di anno in anno, anzi le stesse cifre che avete date, guardate che si dice che siano anche sottostimate, perché... Sono sbagliate, dico chiaramente che sono sbagliate. Dice che addirittura sottostimate, più del 9% quindi, quindi una quantità... Sì, perché si dice che bisognerebbe moltiplicare per 2,5, queste sono le cose che si dicono nei vari ambienti, perché anche nel calcolo c'è effettivamente chi si cancella dal proprio indirizzo italiano e quindi... Quindi non appare più, non risulta. Ma non voglio farla lunga su questo. Il problema vero, ed è gravissimo, è che non solo non diamo lavoro ai nostri giovani, anche qui bisogna dare dei numeretti, guardate che non c'è solo un problema etico, c'è anche un problema economico. Una persona che va all'estero per trovare lavoro, costa al paese, non solo in termini etici, è mancanza anche delle proprie esperienze e capacità e le portiamo all'estero. E quindi è anche un problema etico e di conoscenza. Ma costa anche economicamente. Si va dai 90.000 euro a un lavoro medio a 170-180.000 euro di laureati che si sono appunto... Ma infatti Rosario stiamo per collegarci con un nostro connazionale che è agli antipodi in questo momento, che è andato via e con lui parleremo molto di quelle che sono le differenze anche dal punto di vista retributivo all'estero. Poi un attimo che Trefiletti voleva dire una cosa, ma io gli volevo anche chiedere, essendo preciso come può essere lui, delle macro politiche di questo governo, lui ha citato dei provvedimenti precisi, ma le macro politiche che questo governo sta facendo possono davvero incidere nel rientro in Italia dei giovani? No, purtroppo no. Allora la questione è vera, è la domanda che mi avete fatto prima, quella della novità che sono i cinquantenni che cominciano a uscire per trovare lavoro. Il problema gravissimo dei giovani lo conosciamo, sappiamo benissimo che c'è una caduta molto forte degli investimenti e qui già rispondo alla seconda domanda che è quella del fatto che non si investa a sufficienza nelle macro politiche che si fanno per quanto riguarda il contrasto alla disoccupazione. Guardate, gli investimenti sono calati dal 3% del prodotto interno lordo al 2%. Ma questo governo li ha aumentati gli investimenti pubblici? No, il problema vero è che anche qui su una manovra di finanzo di 36 miliardi non può avere 3,6 miliardi di investimenti. Non si va a politica del cambiamento con questo, bisogna fare politiche ben diverse dato che abbiamo un tasso di disoccupazione ante crisi 6,1%. Ditelo alla Commissione europea. Ma non c'entra l'altro. La Commissione europea è chiarissima, non facciamo questa brutta figura con Davide Caridino, con Zelanda. Chiudo, chiudo, la domanda è la gravità sono i cinquantenni perché c'è una caduta molto forte della produzione industriale del nostro paese. L'ultimo dato è il 5,5 in meno dove l'industria tradizionale sta appunto espellendo e comunque non sta dando lavoro in alternativa. Chiarissimo, chiarissimo Rosario, sentiamo la questione.